e ricollegandomi appunto alle storie di stamattina parlando anche della ragazza che si è svegliata con il desiderio di insultare una bambina di sei anni cosa vorrete che vi dica se non quello che ho già detto che mi piacerebbe vedere un po più di gentilezza onestamente non so come si possa svegliare un essere umano con il desiderio di insultare dei bambini cioè per me questa è una cosa che va oltre ogni completamente distante e lontano dalla mia realtà dai miei valori da non so veramente cosa dire mi dispiace però l'ho pubblicata perché mi capita spesso di ricevere dei purtroppo commenti poco piacevoli inerenti alle mie nipote o inerenti ai bambini che che condivido oltre ogni completamente distante e lontano da dalla mia dalla mia realtà dai miei valori da boh non so veramente cosa dire mi dispiace però l'ho pubblicata perché mi capita spesso di ricevere dei purtroppo commenti poco piacevoli inerenti alle mie nipote o inerenti ai bambini che che condivido ma anche semplicemente quando metto sapete che io amo particolarmente bambini mi capita di pubblicare dei video in generale dei bambini che non sono neanche i miei parenti che non conosco e ci sono persone che insultano anche quei bambini la cioè io ti sto antipatica può insultare me fallo ma il senso di insultare dei bambini che siano miei o che siano non la capirò mai questa cosa non la capirò mai e quindi niente l'ho ripostata semplicemente per ricordare ancora una volta quanto sarebbe carino se fossimo tutti un po più gentili poi relativamente mi interessa quello che pensa questa questa gente con i problemi che sicuramente avranno perché hanno dei problemi le persone che si svegliano la mattina e decidono di insultare i bambini e quindi vabbè così ce ne facciamo una ragione siamo abituati a vedere ormai lo schifo e la qualunque però ecco quando si tratta dei bambini come dice mia sorella lei mi dice sempre tu non smetti mai di stupirti cioè io non ce la faccio io mi stupisco ogni volta